guarda quello dietro con i pugnetti che è convinto si parla che vogliono fare dead space la remaster io sospettando notizie dal team di dead space quello che ha cambiato caso sono facendo quello gioco horror quello tipo che hanno fatto il 3 di quello in prigione c'è tipo l'alleno dentro la sua cellula minchia non lo presento ora appena te lo mando mi sembra veramente un bel gioco se ti piace dead space ti deve piacere per forza ti ricordi come si chiamava? ehm ce l'ho nel canale però appena per finire la partita sembra lo ricordi te lo mando subito non so tu hai mai visto quello quello che si che hanno fatto tipo che ci sono quegli esseri pelati tipo horror che hanno fatto ho visto che c'è sistema di passare alla prossima area di smembramento mostruoso allora io ne avevo visto uno che era pure bello fatto da uno studio indie però che la premessa era molto bella si chiama cernobilite una cosa del genere è ambientato praticamente a cernobil ehm durante durante diciamo epoca moderna no? però che tipo a cernobil ci sono quelli che sono morti durante l'incente sono diventi tipo di specie di zombie mutati ehm in più ci sono tipi soldati tipo nella zona che perchè tu in realtà va lì per investigare devi aiutare tipi superstiti perchè un giorno di voi tipo i superstiti tendi loro obiettivi però ti può tipo all'area con loro per per aiutarvi a vicenda ehm tipe png te li può portare come compagni secondari però se muoiono muoiono definitivamente un po' un po' questo è fatto da un po' da uno studio indie finito cosa? ah quello l'hai finito che non è buttato da te ma morire ora se sancione di acquisto confermata tutto quello che mi dà fa mi ha colpito mi ha colpito ci sarà un nemico da quelle parti occhiamo un po' che il bombardamento veniva dalla parte della gru che hai preso? rivolgente no cazzo mi sparano da dove? da sinistra dove sono da sopra? da sopra da sopra da sopra da sopra vado l'ombra da sopra in casa invece da giallo buono da un po' cerco di entrerci dalla finestra ok per cui da un lopo un pochettino si è spostato si è spostato comunque ci lancio la macchinina con poco aprivi un attimo poi in alto e' bella solo l'equipaggiamento no no mi scanto per quelli puntano il turbo prendi andiamo fino a mezz'alto allora lo sanzione è libero ci ho lanciato la granata cosa cosa ah nemico c'è tutto qualcuno sono lì sono stanzione no forza dove sei c'è? in fondo eh sono morto volevo prenderlo alle spalle ma c'erano più di un nemico lì cerco di rientrare subito venga l'ho buttato una terra buono mi piace un bordello di gente venga ti sei buttato tipo a suicidio venga l'ho 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 cosa l'ho fatto ci viene veloce la motica 3 l'ho 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 luigi l'ho 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 falco l'ho l'angelo l'ho 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 un po' non è sparato no non mi sono accorto perché ho testo a quello dietro che mi sparava non me l'ho accorto di questo testo c'è l'equipaggiamento libero non riesco a prendere da un po' ammazzato ammazzato non sta meglio però ci vedo senza armi perchè ho tanta equipa gente non c'è carmini merda no 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 vieni rientri si 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 la componente ti lo visto via silvio berlusconi che schifo tra parentesi c'è scritto figantropo c chiesto car berlusconi in qualche modo passerà la storia con il buffone d'italia che non lo riesco un cazzo di politica vedete cosa è volando con la persona ignorante del mondo mettiamola così prova a salire vediamo cosa c'è in questi te la butto così diciamo che la cosa migliore che ha fatto berlusconi nella sua vita è solo trombor ma lo sto niente no vedi parlo non ti parlo a livello privato ti parlo a livello politico c'è gente abbiamo dove? eeeh nord est saranno sopra ok ancora sono 12 sopra di noi sono stia attento quando esci ma no 4 c'è un timmintero tutti a destra sono un po' e baca camminchio e barnit ee baca camminchio eeeh vedi compa hai vinto hai vinto la partita lo so, ho ammazzuto al treno al finale come cazzo hai fatto? ho sentito a me come cavia praticamente bravo, attaccate lui, attaccate lui ma avevi maschera no quindi c'era fatto che volevo preparare l'appelo a ammazzarli si si perchè mi sono buttato tipo subito vedo il murettino e mi sono piastrato e gli avevo grattato a quello fortunato che è sta cosa sono usciti gli stronzi stiamo facendo più vittorie di due per tutto il team ragazzi vergognatevi quando vedete questo video su youtube soprattutto tu simone ok 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 Grazie.